Durante questa quarantena per la pandemia del coronavirus, molti bitontini continuano ad ingegnarsi sui social per non fermare la cultura, con iniziative davvero particolari. C'è chi ha pensato al miglior amico dell'uomo, il cane. Miriam Carbonara, educatore e istruttore cinofilo presso il centro addestramento Rubble Dogs di Bitonto, durante il corso della settimana pubblica sul suo profilo Facebook dei video in cui propone ai suoi follower un modo creativo e qualitativamente migliore di spandere del tempo con il proprio cane. Volevo spiegarvi che in questo periodo dove i vostri cani purtroppo non hanno più quella libertà che potevamo dargli prima, magari potendo andare in ari di sgambamento, farli giocare con palline fuori di casa eccetera, sul mio profilo ho pensato ad iniziativa con dei giochi di attivazione mentale per i vostri cani, di modo tale da poterli tenere occupati nelle ore in cui possono essere abbastanza carichi. È vero che possiamo utilizzare qualche osso per poterli scaricare ma ovviamente non possono dormire tutto il giorno. Quindi sul mio profilo Facebook, se digitate Miriam Carbonara, potete trovare dei piccoli giochini da poter utilizzare in casa, quindi sono fai da te e far divertire i vostri cani e soprattutto voi. Questa settimana è partita anche un'altra iniziativa teatrale lanciata da Fatti d'Arte. Si tratta dell'interpretazione a puntate trasmesse sulle pagine social della compagnia teatrale Vitontina dell'importanza di essere onesto, nonché famosa opera di Oscar Wilde. Un riscontro positivo è stato già ottenuto dalla prima puntata dello scorso martedì. L'importanza di essere onesto è un progetto sperimentale della compagnia teatrale Fatti d'Arte. Abbiamo scelto il testo di Oscar Wilde, l'importanza appunto di essere onesto da mettere in scena attraverso una piattaforma di videoconferenza e se volete sapere il perché abbiamo scelto proprio Wilde, seguiteci. Il teatro a casa, fatto da casa. Ci vediamo ogni martedì e ogni sabato pubblicheremo una puntata bello spettacolo su Facebook alla pagina Fatti d'Arte e su Instagram Fatti d'Arte Theater. A tal proposito vi diciamo anche che comunque ogni giovedì alle ore 18.30 noi andremo in diretta a Facebook, quindi potete seguirci ogni giovedì e farci qualsiasi domanda voi voliate. Mi raccomando condividete, supportateci, seguiteci e riempiteci di like!